questa è la seconda parte e passo subito a illustrare il secondo passaggio per l'apertura del terzo occhio ascoltare la voce interiore attenzione non è una voce come la intendiamo noi ma è semplicemente il discernimento di cosa fare come una sorta di intuizione di sesto senso istinto di presentimento il discernimento verte sul bene da fare e sul male da evitare da queste azioni si determina il karma quindi bisogna seguire la voce del maestro interiore questo passaggio è molto difficile perché tra le due correnti di pensiero cioè tra il bene e il male a volte si fa confusione o meglio siamo confusi in che senso possiamo confondere un bene che in realtà è un male è un male che in realtà è un bene cosa significa sia il bene che il male si possono camuffare ora attenzione a questo passaggio questo camuffamento lo fa solo il male le entità preposte al male comodemente chiamate demoni perché il male dice quello che non è e nasconde quello che è realmente questa si chiama menzogna inganno bugia trappola mentre il bene è la verità assoluta dice solo quello che è in realtà tenete sempre a mente questa dinamica quindi cari seguaci ci sono sempre due entità in contrapposizione che lottano per accaparrarsi l'anima chiamati comunemente l'angioletto e il diavoletto noi dobbiamo seguire sempre i consigli del nostro angioletto è quello che dicevo prima all'inizio del video il nostro maestro interiore come si fa confrontando le nostre azioni con la sacra scrittura o meglio facendo ciò che vuole dio fare la volontà di dio e considerate che a volte dio ci fa fare cose che noi a che a noi non piace come hanno fatto i profeti i profeti non hanno fatto volentieri i profeti come per esempio ci può capitare che dio ci chiede di chiedere scusa di perdonare qualcuno di umiliarsi ci chiederà di essere accusati ingiustamente e la lista è lunga e questo lo si può lo si può fare con la sacra scrittura con gli scritti dei padri della chiesa con le letture spirituali col frequentare ambienti moralmente sani con la preghiera con l'adorazione eucaristica la confessione cosa importante è una buona direzione spirituale e tantissimi altri mezzi quindi secondo passaggio discernimento degli spiriti adesso vediamo il terzo passaggio con i primi due passaggi si attiva il terzo occhio ora che il terzo occhio è aperto bisogna insegnare questa dottrina come anche qua ci sono numerosi metodi come può essere l'ammonimento l'esortazione l'incoraggiamento la sollecitazione oppure la spinta ad andare avanti per tirar su il morale o piuttosto il rallentamento di alcune scelte frettolose e tante altre una volta raggiunto un buon livello spirituale è una buona padronanza di tutte le dinamiche spirituali si diventa ciò che in gergo si chiamano i mistici i maestri spirituali i carismatici in grado di operare guarigioni liberazioni discernimento degli spiriti tutte queste cose sono doni di dio e vengono distribuiti in base alle nostre capacità alle nostre inclinazioni possono accadere fenomeni inspiegabili come può essere si possono essere le lucozioni interiori o altre cose che è meglio non dire in questa lezione tutti questi doni che ci vengono conferiti e ripeto conferiti ci danno la possibilità di schierarci dalla parte del bene ma attenzione quando dieco quando dio concede un dono non lo si può più eliminare quando dio benedice qualcuno questa benedizione è per sempre questo per per dirvi fate attenzione a come usate i carismi che vi concede dio avere sempre responsabilità perché dovete sapere che questi carismi possono essere usati anche delle forze del male non cadete mai nelle trappole del maligno che è sempre in agguato per farvi cadere alla prima occasione e io ne so qualcosa quindi cari seguaci bisogna essere sempre uniti agli angeli ai santi e alle anime dei giusti e stare sempre lontano dai demoni i demoni li riconosciamo attraverso il comportamento delle persone riconosciamo piuttosto il loro potere e i loro incarichi io qua ho una lista su questo quaderno di tutte le incarichi e i poteri di alcuni demoni che ho intercettato e che comunque metterò un link in descrizione per per farvi conoscere questa lista cari seguaci tutte queste cose che io vi ho detto le ho prese pari pari dalla lettera di san paolo apostolo a tito e precisamente al capitolo 3 dai versetti 3 al versetto 15 il lavacolo della rigenerazione quindi le parole che vi sto dicendo sono già state scritte da san paolo concludo dicendo che il terzo occhio è un organo capace di percepire realtà invisibili situati oltre la visione ordinaria attenzione il terzo occhio va usato bene va usato per fare il bene per fare opere buone non azzardatevi a fare cose malvagie anche perché da questo punto si apre tutto il mondo del pensiero quantico cosa significa il pensiero quantico ci rende in grado di governare le menti delle persone di pilotare di manipolare di far dire a qualcuno ciò che vogliamo noi entrare nel pensiero delle persone indirizzarle come se fossero dei droni questo va usato per salvare le anime e non per perderle e su questo punto non transigo guai a voi se usate questi strumenti o questi carismi per un vostro interesse oppure un vostro tornaconto i carismi non sono per voi ma sono per gli altri questa è una regola d'oro sul pensiero quantico realizzerò un video e vedremo i dettagli di questa arte del pensare ecco questo video è tutto e un arrivederci al prossimo video ecco questo video ecco questo video